Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Una grande gioia, una grande felicità. Non capita spesso di lavorare con i propri amici, amici veri, amici che ho nella vita, persone che frequento. E' questo male model che conosco, che conosco le chicche dove per andare. E' questo grande gioia, un grande ring che mi piace per essere da lui. Grazie a tutti Dai, famo sta scena, forza, che la portiamo a casa in cinque minuti Dai, quanto dura sei, ha la fama Dai Forza Va bene, dai, rostro il motore